e benvenuti in questa diciamo nuova serie chiamiamola così un nuovo tentativo di fare qualcosa di inventarsi qualcosa un bel teardown cioè smontiamo il telefono allora io qui ovviamente ho un set di più punte di cacciaviti ma alla fine te ne servirà una punta con facciamo un po di prove di messa a fuoco oh che bello dell's20 comunque appunto serve un bel cacciavite con la punta piccolina piccolina ovviamente questi sono è un s3 è un galaxy s3 bianco evidentemente cosa ci serve appunto questo cacciavite questo è un magnete ovvero un altoparlante di un vecchio telefono ma è un magnete dove lo mettiamo lo mettiamo qui soprattutto per dopo cioè quando vado a rimettere le viti intanto lo apriamo così non perdiamo tempo e non dobbiamo velocizzare 40.500 ore di video questo appunto serve poi per raccogliere le vitine dopo come vedrete se ne vanno in giro per tutto il tavolo e non è divertente bene allora altra cosa che ci serve un altoparlante o meglio il fondo che copre l'altoparlante di un s4 come dite non non è normale avere il fondo di un altoparlante un s4 sì bene posso anche capire però comunque insomma qualcosa di plastica tendenzialmente per non ropinare la plastica di cui è fatto il ls3 comunque useremo queste diciamo parti più a punta più sottili allora vediamo di andare un po a svitare poi ovviamente le viti magari le mettiamo tutte in ordine tipo con la cover posteriore che faccio sempre così di solito e insomma alla fine ho deciso di tagliare di smontare il più di di possibile da solo allora come vedete le ho messe tutte qui ok queste sono le tutte tutte le vitine non è assolutamente difficile alcune sono particolarmente simpatiche più delle altre e rimangono lì però non è un problema perché tanto la scocca in questo telefono in particolare è molto semplice da rimuovere chiaramente la scocca quella questa qua non la cover posteriore la scocca in plastica questa qui allora adesso un bel cambio di utensile ok utensile non so non mi ricordo mai ah magari ricordarsi anche di togliere il batterio ma tanto il telefono non va tra l'altro ringrazio la persona che ha reso possibile questo unboxing un sì unboxing è l'abitudine scusate questo teardown e niente grazie bene questa è la prima parte poi come vedete qui ok se chiaramente questo non è un telefono diciamo nuovo eccetera però se mai voleste così mettervi lì a smontare telefoni più più diciamo delicati attenzione a questi connettorini qua sono davvero non sono delicatissimi assolutamente c'è di più c'è di peggio però tirarli via di brutto sì l'ho fatto la prima volta non è mai una cosa diciamo raccomandabile ok allora questa è la motherboard questo è l'attacco per il display che può essere interessante dato che magari so uno vuole cambiarlo così attenzione a questa vitina qui particolarmente simpatica più delle altre ok sì devo girare il cacciavite ma vabbè è perché è praticamente la vitina che tiene attaccata la motherboard ok ok la togliamo questa la mettiamo in disparte la mettiamo dall'altra parte bisogna appunto come dicevo prima prima come direbbe jerry rig everything legoli del lego rimuovere qui così qua tac ok se dovrebbe venire via esatto e viene via facile facile questa è la motherboard del galaxy s3 ok andiamo a vedere da notare vediamo se si vede in una certa luce ecco sì dovrebbe leggersi andiamo un po' exynos andiamolo lì ok poi qui abbiamo la meravigliosa spugnetta per il microfono perché attenzione aveva già un secondo microfono qui avevo già smontato una volta ovviamente il telefono questa è la fotocamera anteriore con sensori di luminosità e prossimità quello che insomma prossimità è quello che quando mettete il telefono all'orecchio spegne il display motorino della vibrazione zanzorosissima sicuro direbbe gale questa è l'antenna insomma questo è il display questo grosso modo tolti questi qua e gli altoparlanti cioè l'altoparlante qua e il motorino della vibrazione praticamente è quello che voi comprate come diciamo display sostitutivo tra l'altro questo è funzionante quindi preziosissimo attenzione e niente ok questo è quanto vi faccio vedere giusto prova di imbecille ma insomma il perché è tutto il video che ho un cavolo di altoparlantino a parte un po' di raffreddore tra l'altro buon anno perché questo video uscirà nel 2021 anche se è e il dicembre 7 ecco e niente tira sulla vite ciao